Nove vittime, sette uomini e due donne tra le province di Forlice-Sena, Ravenna e Bologna e ci sarebbero ancora dei dispersi. 40.000 sfollati, 23 tra fiumi e torrenti esondati, 41 comuni sott'acqua, 400 strade bloccate, 50.000 famiglie senza corrente elettrica, più di 2.000 agli interventi dei vigili del fuoco. L'Appennino è stato squarciato da oltre 280 frane in 58 comuni. Una contabilità devastante, con cifre che sono destinate ad aumentare. Nella radiografia del disastro che ha travolto gran parte dell'Emilia-Romagna, si deve aggiungere la conta dei danni. Secondo il presidente della regione, Stefano Bonaccini, sarà di qualche miliardo di euro. 5.000 aziende agricole allagate, con serre, stalle, vivai, raccolti distrutti e migliaia di animali affogati, secondo i dati di Coldiretti. Ma l'allarme non è finito e si segnalano nuovi allagamenti in Romagna. Da ieri sera emergenza anche per gli abitanti di Lugo e di Cervia, nel Ravennate. A Lugo l'acqua ha inondato il centro storico per le esondazioni dei fiumi Segno e Santerno. Molte strade sono già sotto un metro di acqua, così come a Cervia, dove le spiagge e gli stabilimenti balneari erano già stati flagellati nei giorni scorsi. Continua la corsa contro il tempo per salvare le persone rimaste bloccate e per raggiungere le zone isolate. Resta sempre più alta nel Modenese l'allerta per i fiumi Secchia, Panaro e Reno.